E' finito gli arresti domiciliari per aver disturbato la messa di ieri sera, protagonista della particolare vicenda, un uomo di Atripalda. Il 45enne, accompagnato dal suo cane, è entrato nella chiesa del Santissimo Rosario di Corso Vittorio Emanuele. In chiesa si stava celebrando la messa serale della Domenica delle Palme, quando l'uomo è entrato ed ha cominciato ad infarsidire i fedeli presenti alla funzione, tanto che sul posto si è reso necessario l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Nonostante la presenza dei militari, l'uomo ha continuato a disturbare le persone, per poi inveire contro i carabinieri con frasi ingiuliose. Si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto una forte resistenza. Con non poca fatica i militari sono riusciti a tranquillizzare l'esagitato, che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Condotto in caserma per il 45enne, è scattato l'arresto in quanto ritenuto responsabile di resistenza e violenza pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e detenzione porto abusivo di arma bianca. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.